Ora eccoci, qui parliamo di Mike Mignan, di Zlatan Ibrahimovic e del procuratore capo di Milano, con grande rispetto evidentemente, mancherebbe altro, Marcello Viola. Partiamo da Mike, partiamo dal calcio, che è sempre meglio. Già ieri avevo aggiunto al video, nella didascalia, non sembra niente di preoccupante, perché avevo percepito quanto stava dichiarando Stefano Pioli. E in effetti gli esami di oggi hanno confermato, nessun problema, capsulo legamentoso, quindi la muscolatura di Mike ha tuttito una brutta botta. Molti tifosi del Milano ieri sera erano preoccupati, però Stefano Pioli aveva detto ma botta, dolore, basta, dovrebbe essere così, non fa il medico, non si sbilancia. Però gli esami di oggi hanno confermato. Poi bisogna vedere se dopo una botta così Mike può giocare già col Verona, magari sì, magari no, magari può giocare Sportiello, ieri ho visto delle grandi discussioni, perché tu puoi fare tre gol, puoi dominare la partita, la partita può essere già finita, ma anche durante una partitella testa a Milanello. Se prendi gol c'è chi ha sbagliato, scatta subito l'inquisizione. Con noi sapete che l'inquisizione e gli inquirenti scattano subito ai blocchi di partenza, anticipando addirittura lo starter. Quindi colpa di chi? Di Malik a destra? A sinistra chiedo scusa, Malik Chauker a sinistra. Colpa di chi? Di Sportiello? Chi è lo colpo? Sto gol! Meraviglioso, tutto meraviglioso. Non lo so se però Marco Sportiello ha fatto, se giocherà a Verona, lui, che aveva già giocato a Cagliari quando vincemmo 3-1 a settembre, ha già messo dei minuti, ha già messo dei minuti, passa queste giornate mentalizzato sulla partita, quindi se giocherà lui giocherà uno sportiello pronto, uno sportiello tonico pronto alla bisogna. Vedremo, vedremo quello che succederà. Certo è che sapere che Malik non ha niente, non deve affrontare una lunga assenza, dopo questo sorteggio duro di Europa League con la Roma, è un sollievo, è una cosa buona per noi. Sapere che Malik in ogni caso contro la Roma ci sarà è una buonissima cosa, importante, perché noi per arrivare in fondo in questa Europa League abbiamo bisogno del miglior Mike, quello che avevo evocato qualche editoriale fa, quello che ha fatto la grande parata su Cittilla all'inizio di Slavia-Praga-Milani, ieri sullo 0-0-11 contro l'11, grandissima parata, è quel Mike League che ci protegge, è quel Mike League di cui abbiamo bisogno. Zlatan Ibrahimović, che parlava peraltro con Mike Mignan in una delle ultime partite uscendo nello stadio di San Siro, si vedevano inquadrati nel sottopasso fuori dallo spogliatore mentre andavano fuori in garage insieme. Zlatan Ibrahimović ha questa capacità brutale di sintetizzare le cose. Cercavano qualcosa ma non hanno trovato niente, la frase di Zlatan a strisciare la notizia, non so se l'avete già vista, se l'avete già consultata. Molto diretto, molto Zlatan, molto Ibrahimović. Non hanno trovato niente. È un po' quello che penso anch'io. Tant'è che se il tema di oggi è la ricerca dell'agente segreto della mediazione, perché qui i messaggi che ci stanno arrivando in questi giorni sono lo che in città ci sono quelli belli, buoni e bravi al primo banco. Tu, Milan, non sei seduto al primo banco, quindi ogni cosa che fai ti devo controllare. Questo è il messaggio che ci arriva. Libera iniziativa, trattative private, no. Ne devi parlare con noi. Oggi ho avuto, leggendo un articolo, la sensazione proprio dello stato di polizia. Io avevo un articolo e dicevo che il Milan ha acquistato altri metri quadrati a San Donato, però se sia legittimo fare lo stadio a San Donato, a San Siro, lo decidono gli inquirenti. E chi lo scriveva sente di essere dalla parte giusta. Soprattutto la parte contro il Milan, perché chi lo scriveva era ampiamente, clamorosamente contro il Milan anche l'estate di Calciopoli. Però, evidentemente, chi vuole bene al Milan nel corso degli anni questa cosa non l'ha molto messa bene a fuoco. Siccome non c'è nessuna inchiesta che mi risulti, almeno a oggi poi, ragazzi, figuratevi se non ci sarà, sullo stadio di San Donato cosa devono decidere gli inquirenti? Perché se io devo fare lo stadio, ho capito che mi hai già mandato in Serie C e mi hai già escluso dalle coppe, ma posso fare uno stadio anche per il campionato di Serie C? No, non decido gli inquirenti. Che per carità vanno rispettati e sono assolutamente rispettati, ma io faccio la gag, faccio la caricatura immedesimandomi in chi scriveva decidono gli inquirenti. Va bene, decidono gli inquirenti. Tra gli inquirenti oggi gira, è virale, ragazzi, io ne parlo da profano, da cittadino, da tifoso piccolo piccolo, ma è virale, insomma, questa intervista sul canale YouTube Blog Sicilia a Marcello Viola, a Marcello Viola che è il capo della Procura della Repubblica di Milano. Ora, ragazzi, io faccio fatica a fare il tifoso su un argomento del genere, perché quando ci troviamo di fronte ad un magistrato che rappresenta il paese, in grandi inchieste, in momenti chiave della storia dell'Italia, io non posso non andare cauto. E ogni magistrato ha il sacrosanto diritto al di fuori del proprio lavoro di fare per la squadra di calcio che meglio crede, anzi, più riesce a staccare, a distrarsi, a rilassarsi nelle ore in cui non lavora un altissimo magistrato di questo paese, meglio è. Quindi, io non riesco a puntare il dito. Marcello Viola, capo della Procura della Repubblica di Milano, è un grande tifoso interista, grandissimo tifoso interista, adesso è uno di quelli tosti, ma parlo dal punto di vista calcistico. E quindi, quindi niente, ne ha facoltà, ne ha pieno diritto. È chiaro che poi questa cosa nelle chat Whatsapp di tifosi, sui social, siccome il calcio è quella roba lì, il calcio è una brutta bestia per chi si avvicina anche con un'altissima statura professionale come nel caso del dottor Viola, è chiaro che se poi finisci per toccare il calcio, entri nel tritacana nel calcio, per cui hai fatto, hai reso al paese i servigi più meritori, più in prima linea, più in trincee, più importanti, però poi si va a discutere se sei milanista o se sei interista. E questo mi spiace che venga fatto dai tifosi. E io metto la mano sul fuoco sul fatto che non c'entri nulla con la perquisizione che c'è stata nei giorni scorsi a casa Milano e non solo a casa Milano. Però è chiaro che questo è il calcio italiano. Poi il fatto che tu hai reso pubblico e dichiarata la tua grande fede nera azzurra allora induce qualche tifoso milanista a chiedersi ma c'è serenità su questo argomento a parte che non è direttamente il capo della procura di Milano ha davvero ordinato la perquisizione a condurre le indagini e l'inchiesta ma i suoi sostituti che in ogni caso a lui riferiscono e lo fanno anche loro con grande professionalità e ne sono convinto un modo di fare assolutamente specchiato. Però è chiaro che trattandosi di calcio la materia diventa poi calcistica quindi tifosa quindi di pancia e quindi è chiaro che questo video del Dottor Viola lo andranno a guardare in molti poi io dico solo e semplicemente non posso fare altro che ripetere solo e semplicemente quello che ha detto il flatana striscia la notizia a domani